attraverso roberta s la voce interiore attraverso roberta s santa maria delle mole 10 gennaio 2006 a cura di vb guide ricordatevi che quello che fate ha importanza come ha importanza ciò che pensate e ciò che dite siete l'insieme di queste cose non siete solo ciò che apparite anzi quello che appare di voi è la minima essenza di voi quello che gli altri pensano di voi e che voi costruite come fosse la costruzione più importante della vostra vita altro non è che una fragile costruzione pronta a crollare con il primo vento dello spirito perché il vostro spirito ha una potenza che la vostra mente non riesce a concepire e la vostra mente è ciò che ora è più vicino a voi allora parlate serenamente con quella parte mentale che vi dice che dovete ottenere qualcosa prima di dare perché non otterrete nulla se quello che darete non sarà verità la verità è l'unica essenza che potete donare e quando provate a dare qualcosa che non vi appartiene chi riceverà quel qualcosa riceverà la falsità è questo quello che volete donare se è la falsità ciò che ritenete degno del vostro prossimo allora fareste bene a non ascoltare queste parole e ad alzarvi fin d'ora da qui andandovene con l'idea che ciò che state ascoltando è sbagliato siete tutti liberi di fare questo ma se siete qui allora siate coerenti con la vostra ricerca e con la vostra volontà di voler donare quell'amore che ancora non conoscete ma che siete in grado di trasmettere anche quando vi sentite più limitati la vostra volontà è il segreto e fa la differenza se avete una buona volontà trasmetterete sensazioni positive ma se in voi c'è un doppio gioco una volontà di possedere voi un qualcosa in più allora vi ritroverete sempre con un qualcosa in meno continua grazie a tutti